via per l'attività schifo raga quanto tempo anche non facciamo una crossbar challenge sei mesi ed a tutti ragazzi c'è highflex che vi parla d'oggi siamo tornati una nuova crossbar challenge siamo massori in compagnia di macchia dovrete il suo canale sotto in descrizione mi raccomando iscrivetevi al suo canale e siamo sempre con mio fratello siamo tornati per questa sfida è un po' tardi perchè non ve lo stavo facendo una partita appena arrivato quindi un vi piace per il mio fratello che sta facendo questa crossbar challenge avendo appena finito una partita di stanco e anche un mi piace per gabriele che gli fa male la schiena quindi un mi piace per tutti e due a questo punto mi piace per me perchè ciò lo so nel piede vai iniziamo a tirare il primo tiratore sarà mio fratello devi spostarti però ah è vero ah è vero ah è vero ecco a rimorchio si sta spostando ah ah mi chiamo grazie però comunque non c'è una grafica professionale perchè 70 euro di web che non me lì non ce li ho vai vediamo il primo tiro mettigliela tu la palla bene milio quando è che ero? no no crossbar challenge ma che cazzo ah allora se non diventare una crossbarciana è assurdo io ce la faccio ecco il pallone è anche arancione almeno si vede meglio e lo so siccome c'è il bello raga ci sono 30 gradi quindi il cielo è anche un po' nebbiato e si vede non molto bene attenzione va bene primo tiro è andato male per macchia non fa nulla ah... e vediamo ora mio fratello allora spostati davanti però attenzione traversa subito traversa subito oh oh traversa subito vápide io userò questo pallone che ve lo ricordano è la crossbar challenge ehυχυχوج dragon wrap andiamo a posizionare la palla lo tira proprio in tribuna lo tira in tribuna raga ho sbagliato pensano a mio fratello che lo vede abbastanza carico ed ecco qui macchia con questa camminatura da professionista 8 a 1 ha vinto la partita anche 8 a 1 la presa dal fratello raga attenzione a macchia va bene ora c'è il mio fratello io ora utilizzerò il pallone arancione almeno si vede anche meglio per voi mi scusa ancora se è abbastanza buio palo meno male meno male ma non vale il pallone dai ma non ce l'ha fatto ma devi tirare la devi prendere il pallone c'è un canarino niente raga non è in giornata propria slata è un assurdo è un assurdo 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 si è ciccio gamer con firme e vabbè come è stato bello come è stato veramente bello ma non ce la faccio mi dà un male la gara vabbè vuole stronzo attenzione il mio fratello guarda l'ho minchia la gara mi sta palla mi sta palla mi sta palla che truccare ora voglio la palla dai vabbè veloce mi sta palla dammi sta palla vabbè veloce ma non è se la palla di armi beh eh eh era la palla tutto azzeccato era la palla raga attenzione a macchia siamo al quarto tiro quarto tiro 2 a 1 per mio fratello occhio a macchia va bene ce la faccio non ce la piace beh l'importante è che ci divertiamo raga l'importante è che mi faccia male io dai che lo sbaglia dai che lo sbaglia hashtag sbaglialo hashtag ne hanno male se lo sbaglia lo tira in tribuna regalo non mi piace se volete che faccia il gol oh c'era il cazzo un po' di merda nano di merda nooo e ce lo mangio ce lo mangio lo cammaggio rodo se io lo segno ho vinto eh eh già ora raga se mi ha fatto lo segno ha vinto se lui sbaglia lo segno finisce cioè ci sarà il tiro bonus ti sento la macchia roda oh oh my god oh oh 55 like per il gol di macchia solo per questo gol lo voglio 55 like 500 like dai che lo sbaglia dai che lo sbaglia sto che sbaglia eh i patti eh eh mi prossimo la balla al fuori e le palle dove sono devo segnare raga se no ah ecco devo segnare perché se no ha vinto mio fratello e non posso accettare questa sconfitta guarda sconfiani bene no ti prego mi c'è bongolo povera silence silence raga ultimo tiro se segno si continua quello spareggio se no ho vinto se sbaglia ha vinto sto babbo sto babbo sto babbo importante che ho fatto un quindi raga per questa crossbar challenge è tutto io ho vinto sto babbo ho vinto e lui uno quindi lui abbiamo vareggiato e lui ha vinto quindi raga per questo video è tutto ricordo di lasciare un like un commento iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto basta DaiFlex è tutto ho vinto 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 credino vai di poco allora chiudo